Match Spartiacco è quello che va in scena al comunale di Castelnuovo, dove si affrontano Torrese e Pontevomano. Gli uomini di casa necessitano dei tre punti per rosicchiare punti a Chieti e San Buceto, che si sfidano in contemporanea. Gli ospiti, invece, sono impegnati nella zona per non retrocedere. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, il Pontevomano si rende subito pericoloso dalle parti di Bruno con Manuel Di Sante, che stacca di testa ma il suo gol viene annullato per chiara posizione di offside. Al sesto, ancora gli ospiti e ancora Manuel Di Sante, che su cross di Maranella trova una deviazione strozzata di destro che non impensierisce la retroguardia della Torrese. Superato il quarto d'ora di gioco, si sveglia la formazione di Cristofari. Al diciannovesimo ha battuto Puglia e calcio di punizione per i giallorossi. Della battuta se ne incarica Chiacchiarelli, che con un sinistro a giro trova il palo a negargli la via del gol. Via del gol, che per il numero 10 della Torrese si fa limpida e cristallina, quando al 34esimo confeziona una perla a giro di sinistro che si infila sotto al 7, lasciando di sasso Farnese. Nella ripresa, il Pontevomano aumenta il suo peso offensivo alla ricerca del pareggio, ma le occasioni più nitide le ha sempre la formazione di casa. A rientro dagli spogliatoi è subito Torrese, con Puglia dai venti metri che chiama all'intervento in angolo il portiere Farnese. Al sedicesimo si accende l'asse Maio-Puglia, 1-2 tra la punta e l'esterno, con quest'ultimo che va alla conclusione ma non trova lo specchio della porta. Al trentatreesimo proteste vibranti da parte del Pontevomano per un presunto calcio di rigore. Angolo di mano il disante e caduta in area del capitano Alessandro Marcozzi. L'arbitro Sciuba della sezione di Pescara non è dello stesso avviso e fischia fallo in attacco. Girandola di cambi che non alterano il risultato del match. Vince la Torrese per 1-0, trascinata da uno strepitoso chiacchiarelli, man of the match. Tre punti importantissimi per gli uomini di Cristofari, che approfittano dello scontro diretto tra Chieti e Sambuceto per consolidare il secondo posto in classifica. Tanto rammarico per il Pontevomano, al quale è mancato solo il gol per portare a casa un punto prezioso. Con questa sconfitta, gli uomini di Capitanio restano invischiati nella lotta per non retrocedere. Qual è l'obiettivo per queste ultime quattro partite? Noi dobbiamo pensare partita per partita, domenica abbiamo uno scontro importantissimo, dobbiamo scendere in campo in casa, dobbiamo cercare di fare il massimo domenica, poi pensare alla partita successiva e poi all'altra non possiamo pensare alla lunga perché non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo cercare l'obiettivo di quattro partite è fare 12 punti, poi possono venire 10, 9, 6, 3 o anche 0, però ne dobbiamo scendere in campo per vincerle tutte. Penso che comunque le partite e le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ci manca qualcosina dal punto di vista realizzativo, però oggi un po' di meno, ma l'occasione ne creiamo, per cui rimaniamo fiduciosi, concio che la situazione comunque è dura, ma lo sapevamo dall'inizio. Mancano quattro partite, cerchiamo di fare il meglio e poi alla fine facciamo le somme. Mister Cristofari, tre punti importantissimi che permettono alla Torrese di consolidare il secondo posto, dato poi la vittoria del Chieti nel match contro il Sambuceto. Che partita è stata? Partita difficile, secondo me è stata la partita più difficile da quando sono subentrato, il Ponte Romano è venuto qui e ha fatto una grandissima gara. Sapevamo che veniva qui a vendere cara la pelle, ma sinceramente non mi aspettavo tutto questo ardore, tutta questa dinamicità, sono partiti subito forti, hanno creato due o tre situazioni per poter andare in vantaggio. Noi abbiamo fatto fatica a prendere distanze, abbiamo fatto tanti errori a livello tecnico. Il primo caldo, sia per noi che per loro, ha un po' condizionato la gara, nel senso che la mia squadra l'ho vista molto stanche, quindi è anche motivo di riflessione per il lavoro che verrà per la prossima settimana.